Eccoci con un nuovo appuntamento con la salute. Come avevamo detto precedentemente, è ospite in studio oggi con noi, ancora Roberto Picatto, in arte Shari, io ti chiamo Shari perché forse sei più conosciuto. La tua band si chiama Sherry Band, ma perché è ancora ospite con noi? Perché oltre a fare musica, oltre ad essere uno showman, a fare spettacoli in giro un po' per tutta Italia, poi alla fine, in realtà è impegnato molto nel sociale e quindi questo significa che aiuta diverse associazioni di volontariato per la realizzazione dei loro progetti. Allora, ci siamo detti perché lo fai, perché quanto è difficile, ma alla fine qual è il vero motivo? Perché a me sembra una cosa un po' strana che una persona che faccia musica, che sono venuta ai tuoi spettacoli, abbia il tempo e la voglia di spendere una parte del suo tempo appunto per aiutare altre associazioni. Guarda, in realtà un po' di orgoglio, no? Perché poi sai benissimo che quando qualsiasi artista, soprattutto chi è il protagonista del proprio spettacolo, è creatore, è anche un pochino permaloso, ama molto egocentrismo, cioè ama molto avere l'attenzione su di sé e comunque ti riempie di soddisfazione perché in realtà, come dicevamo nella scorsa puntata, noi che apparteniamo al mondo delle cover band siamo comunque una realtà di sottobosco, sebbene per fortuna professionistica della musica. E quindi riuscire a cercare di far bene e riuscire a recuperare dei soldini per realizzare delle situazioni, vederle realizzate è innegabile, cioè fa un piacere abbastanza serio. E poi è proprio bello toccarle, no? Perché poi quando con la scintilla andiamo ad acquistare questi oggetti e sappiamo che comunque funziona bene quando la persona poi ti viene a parlare e ti dice guarda, mi ha fatto piacere perché hanno fatto questo e questo, vuol dire che anche tu hai contribuito. Altre associazioni invece un pochino più piccole, decisamente più in difficoltà economica, ecco che gli oggetti sono più economici ma più essenziali, nel senso che più importanti. Abbiamo comprato addirittura per un'altra associazione che si chiama Gazzaladra ed è di Invorio, sempre novarese, nonostante io sia torinese, è nato questo connubio con la provincia di Novara, ripeto sempre per caso, alla quale abbiamo acquistato della cancelleria. Si parla proprio di cose tipo i quaderni, tipo le pende. Diciamo però che la Gazzaladra di che cosa si occupa? Si occupa di, sai, si scrive la Gazzaladra, comunque tutto ciò che può essere dislessia per quanto riguarda dei bambini a quelli anche ai ragazzini. È un discorso un po' complesso perché poi rischerei di dire cose inesatte. Diciamo che aiuta le persone in difficoltà ma in particolare quelli che sono in età pediatrica o adolescenti che possono avere problemi nello sviluppo del linguaggio o in altro tipo di sviluppo neurosensoriale. Sicuramente è meglio spiegato da te che se in tecnica per noi invece è un pochino più crudo, però sono cose che si vedono e soprattutto sui giovani. Ad esempio, come dici tu, il mondo delle cover band è un sottobosco. Però se tutto questo sottobosco si muovesse, si potrebbe fare tanto? In teoria sì, in pratica meno. Perché anche tra noi chi ha voglia realmente di fare qualcosa ce ne sono pochi, no? Poi si sa, generalmente tutta la società è proprio abbastanza, pensa ai cavoli propri. È un po' inarichita. Esatto. E quindi quelle poche cose, anche se devo dire che i miei collaboratori quando chiedo ci sono sempre, ma anche solo nella sciocchezza di partecipare ai tornei di calcetto, che magari c'è la band che fa tributo a Vasco contro la band che fa la cover 360. Così organizzano le squadrette e diventa veramente interessante e c'è da ridere e da morire. Oltretutto ci si diverte. Però intanto sono lì la domenica mattina, magari siamo andati a dormire alle 5, alle 6, alle 10 siamo lì che giochiamo con gli occhi sparati e giochiamo tra virgolette perché siamo veramente degli zappatori però. Quali sono le modalità con le quali tu raccogli i fondi per queste associazioni? Guarda, ce ne sono diverse, chiaramente oltre a quelle pochissime donazioni così senza nessun motivo. Che sono sempre certificate, cioè nel senso che viene sempre rilasciata una ricevuta, quindi una persona sa dove vanno i soldi e può chiedere anche merito di quello che è stato dato. Certo, ma poi c'è la faccia. Eh infatti. Che è la cosa fondamentale, nel senso io mi ci metto proprio in toto e garantisco comunque e qualsiasi informazione si possa chiedere, possono venire da me tranquillamente, io gli racconto tutto. Poi ci sono il conto bancario dell'associazione, ci sono tutte le ricevutine, c'è tutto, ci sono le fatture di ciò che acquistiamo per poter riuscire a rapinare di 10 euro chi ha voglia di farseli rapinare. Le iniziative sono diverse, principali, sono quelle del torneo di calcetto che facciamo o degli altri piccoli tornei grazie all'amica Laura che si sbatte con una matta. La salutiamo alla grande. E poi il calendario che è sempre quello scandalosissimo, però intanto è quello che vende ed è la fonte di guadagno maggiore. Allora sì, perché siamo abituati ai calendari femminili, no? Sì. Ogni anno. Questo è un calendario maschile, però non è neanche così osè come... Io lo trovo molto ironico e molto divertente. È molto ironico e molto divertente. Da quando? Da 15 anni a questa parte. Sì, 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 sì. Nonostante l'età che comunque comincia. 15 anni e la fungiatura era meglio. E c'è Photoshop, dai. No, non lo usiamo perché è giusto vedere anche la ruga e l'imperfezione perché è divertente. Giusto. Deve essere divertente perché se no diventa ridicolo, questo non va bene. Però è proprio anche divertente perché riusciamo a recuperare i soldi da una cosa estremamente leggera e per una cosa estremamente invece seria. Quindi lo racconto spesso, no? Gli ho detto per me ragazzi potete veramente farci gli aeroplanini, carta assorbente, insomma potete farci ciò che volete ma basta che ci... E come fa una persona ad acquistare il tuo calendario? Ma normalmente viene ai nostri concerti oppure ce lo chiede via internet all'indirizzo del sito e noi glielo mandiamo a casa. Perfetto, se vogliamo ricordare gli indirizzi dei siti... Ricordiamoli alla grande! www.shari.it si scrive S-H-A-R-Y, abbastanza facile. Poi c'è la S con la stella che è un po' dappertutto. Ecco, quindi proprio come sopra qua, tra qua, qua sotto. Ok, e invece alcune date che potresti ricordare se una persona fosse interessata? Perché ricordiamo che la vostra cover band non è novarese ma le due associazioni sono novarese, dopo questa trasmissione magari avrai altre associazioni della zona di Torino che ti contatteranno, però va bene lo stesso, secondo me si può aiutare tutti facendo anche nel piccolo. Sì. Appunto, alcune date in zona o nel novarese? Guarda, nel novarese saremo l'8 marzo al palafenomeno di Fontaneto d'Agonia, proprio la festa della donna del nostro tredicesimo compleanno, quindi un appuntamento un po' particolare. Nella zona torinese saremo nella festa di una palestra, festa annuale della FIT di Oglianico, quindi un paesino molto piccolo, in provincia di Torino, poi saremo al carnevale storico di Ivrea, di Evolandia, domenica 26 febbraio. Abbiamo diversi appuntamenti mensili, siamo comunque intorno ai 12, 14, 15 appuntamenti tutti i mesi e tocchiamo tutto ciò che è il territorio del nord Italia, dall'Emilia Romagna, in su, qualche volta riusciamo a fare sia una GTA all'estero e al sud, ma sono rare perché il circuito delle cover band è soprattutto nel nord Italia. Io ti rifaccio ancora una volta la domanda. Sì. Quanto è importante lanciare massaggi di solidarietà in questo momento? Anche perché, facciamo una premessa. I tuoi spettacoli sono aperti a tutti, io quando dico aperti a tutti vuol dire che io ho visto nei tuoi spettacoli il bambino, la mamma, il papà e il nonno anche. Quindi è veramente, se vogliamo, uno spettacolo a 360 gradi che va bene per tutti e quindi lanciare messaggi di questo tipo è estremamente importante. Sì, beh il momento è veramente storicamente per la solidarietà è iperattuale. tutto ciò che è capitato per il terremoto, che sta capitando ancora oggi, stiamo vedendo che se non fosse per i volontari e i vicini del fuoco, le forze dell'ordine, insomma, però le persone, ahimè, arriva poco giù. Quindi la solidarietà oggi deve essere fondamentale. C'è, perché c'è. A parte il sottoscritto per quel poco che fa, ma ci sono tantissime altre persone che agiscono con la pala, con le giacche a vento e a gelarsi. Quindi direi che è veramente fondamentale. Ogni tanto, soprattutto per chi sta bene, magari un pensierino, cinque minuti si dedicano, magari con i soldini, magari anche ancora meglio con la propria immagine, con la propria forza, e riuscire a fare qualcosa, ma soprattutto di concreto. Perché poi in realtà quello al quale puntiamo noi, soprattutto, è quello di realizzare qualcosa di estremamente concreto, cioè di papabile. in modo tale che qualsiasi persona che viene lì e mi dice, sì, però io ti ho dato cinque euro o dieci euro per il calendario. Cosa ci hai fatto? Io possa dirgli, ho comprato questo quel giorno e ho dato a questa entità questo quel giorno, con quei soldini lì. Ma qualcuno non potrebbe anche dirti, sì, va bene, ma tu lo fai, potresti comunque farlo senza, questo proprio in brevissimo, senza farti questa pubblicità. Ma, sì, in realtà noi lo facciamo, questa è la prima volta che mi intervistano per quanto riguarda questa cosa, quindi dopo 15 anni, quindi direi che questa è la risposta migliore. Si fa perché è bello farlo, perché ti senti di farlo, perché sta dentro di te, se no non lo fai. Devo essere sincero, è molto crudo in questo, aspettarsi questo tipo di pubblicità per la nostra attività sarebbe molto di fame. Infatti, no, ma poi conoscendo tutto il tuo gruppo penso proprio che sia un'accusa infondata. Sì, però è giusto dirlo, mi fa piacere che lo dici perché io che sono anche anch'io abbastanza puntigliosino, è importante dirla questa cosa qua, perché in realtà potrebbe, ai nostri livelli a me non serve. Allora, io ti ringrazio per essere stato con noi e invito i nostri telespettatori ad andare a un suo spettacolo, a vederlo perché è puro divertimento, ma soprattutto potete aiutare anche delle associazioni di volontariato e quindi potete fare della solidarietà, anche concretamente, anche con un piccolo gesto. Quindi grazie a te, grazie alla musica che fai, ma grazie alla musica in generale che diventa anche lo strumento per stare bene. Alla prossima puntata e grazie per averci seguito. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.